Grandi eventi per l'estate cuneese organizzati da Confartigianato Imprese Cuneo, ce ne parla il direttore Josef Meineri. Come Confartigianato Cuneo avremo due grandi eventi quest'anno per l'estate cuneese, il primo sarà domenica 27 giugno a Vinadio. Porteremo i Carmina Burana per presentare quello che è l'anno di Confartigianato Imprese, ovvero i creatori di eccellenza con le passeggiate gourmet. Con la musica vogliamo raccontare la provincia di Cuneo, raccontare la sua gastronomia, le eccellenze del territorio e queste fantastiche passeggiate all'interno di una terra da scoprire. L'altro grande evento sarà giovedì 29 luglio sulla città di Cuneo, il concerto di Allevi dove festeggieremo i 75 anni di Confartigianato Imprese, che è nata 75 anni fa e abbiamo chiesto a un grande musicista di raccontare l'artigianato attraverso le sue musiche, quindi regaleremo alla città questo evento.